L'europea è confronto anche tra i 5 stelle a far discutere l'ipotesi di una multa da 250.000 euro per chi lascia il movimento. Claudia Mazzola. Grillo chiedi la fide iussione. È la battuta che gira sulla sanzione di 250.000 euro prevista per gli eurodeputati che infrangeranno il codice di comportamento 5 stelle e si faranno espellere. La penale rischia di essere nulla secondo lo statuto dei parlamentari europei. Un insieme di regole approvato dall'europarlamento nel 2005 che recita qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo. Ma i fedelissimi spiegano. Io credo che ci sia un problema di natura morale da porre. Chi è eletto è eletto semplicemente in quanto parte di un progetto condiviso da quasi 9 milioni di italiani. Quindi uscire proprio dal Parlamento. Certo. Da Strasburgo a Roma.